Questo video riguarda i migliori 3 cuociriso a cottura veloce. Il vincitore della qualità nel nostro cuociriso a cottura veloce va al Yam Asia Bamboo. Capacità di 8 tazze di riso crudo abbastanza per 1 a 8 persone. Tecnologia di riscaldamento ad induzione Umai. Impostazioni bianco a grana lunga, a grana corta e riso integrale. Impostazioni Yuma Miegi Abia Brown. Utili funzioni multi fornello impostazioni di vapore, porridge, cottura lenta, cottura della torta e crosta. Ciotola interna rivestita in ceramica Joubu di 5 strati di alta qualità con maniglie di facile sollevamento. 24 ore mantengono la funzione calda e la funzione timer 24 ore. Tecnologia di riscaldamento 3D. Conto alla rovescia di 10 minuti per le funzioni di cottura del riso. Pannello di controllo Motach coreano di ultima generazione. Display a led luminoso bianco ghiaccio. Elegante finitura in argento metallizzato con coperchio con motivo a diamante nero accentato. Coperchio interno rimovibile. Cappello vapore esterno e collettore di condensa per una facile pulizia. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. L'alternativa è il Yam Asia Sakura. Capacità di 8 tazze 1,5 litri di riso crudo sufficiente per 1 a 8 persone. Tecnologia Fasi Logica avanzata. Impostazioni per riso bianco a chicco lungo, a chicco corto e integrale. Impostazione di cottura rapida per una cottura più rapida del riso bianco. Vapore. Porridge. Cottura lenta. Zuppa. Cottura di torte. Impostazioni di crosta e yogurt. Ciotola interna rivestita in ceramica di alta qualità a 5 strati da 2 mm con spessore ninja con maniglie di facile sollevamento. Più facile da leggere le linee del livello dell'acqua per diversi tipi di riso. Funzione di mantenimento in caldo 24 ore e funzione timer 24 ore. Timer per il conto alla rovescia della funzione riso da 10 minuti. Pannello di controllo Motach all'avanguardia progettato in Corea. Raffreddare display LED blu ghiaccio nitido e luminoso. Funzione di accensione e spegnimento. Tecnologia di riscaldamento 3D. Il vincitore della performance premium nel cuociriso a cottura veloce è il Yam Asia Kumo. Impostazioni per riso bianco chicchi lunghi, chicchi corti sushi e riso integrale con esclusive funzioni di cottura salutare a basso contenuto di carboidrati. La cottura in più fasi significa consistenza, gusto e aroma perfetti. Regola automaticamente la temperatura e i tempi per una cottura ottimale del riso combinata con utili opzioni aggiuntive su misura tra cui vapore, porridge, impostazioni di cottura lenta incluso timer preimpostato 24 ore e funzioni di mantenimento in caldo. Resistente. Sana con linee di livello del riso stampate in seta per diversi tipi di riso. Include manuale di istruzioni, guida rapida, cestello per cottura a vapore in acciaio inossidabile, misurino per riso, spatola per riso e mestolo. Moderno display a led bianco brillante e luminoso con pannello di controllo, smart button dal design coreano e riscaldamento surround 3D in un elegante design industriale. Se ti piace il video apprezzeremmo un pollice in su o anche un commento.